guardate l'acqua si è aperta dei sentieri siamo sulla strada ho ripreso anzi ora riprenderò un po meglio un ottimo fungo tardo autunnale si chiamano qua degli aggregati sono fatti ecco questo lo cavo perché questo me lo mangio proprio eccoli qua si chiamano aggregati perché sono nascono tutti insieme in aggregazione è un fungo che va scottato nella parte iscrittiva vi spiegherò ancora meglio la situazione comunque è un buon fungo ieri ne avevo trovati qualcuno ieri sera me ne sono mangiati sulla pizza ottimi contorni anche in umido ripeto una bella scottatura buttare via l'acqua di cottura ne troverete tanti perché questo è uno dei funghi tardo autunnale